Lo sapevate che David Lama inizia ad arrampicare da piccolissimo raggiungendo il grado di 8A a 10 anni, l'8B a 11, l'8B più a 12, l'8C a 13 e a 14 anni l'8C più di no future 70 metri di muro nella falesia di Seus. Purtroppo muore a 28 anni, travolto da una valanga, avendo spostato ogni suo interesse ad impressionanti imprese alpinistiche. Rimane nel mondo la profonda cicatrice di uno dei più forti e talentuosi scalatori di sempre. Seguitemi per altre curiosità.